no, non lo so no, non lo so nessuno vuole un Presidente che agita come si è mortale e se non sei scoperto di morte, come puoi valutare la vita? e la vita è molto f***o ora 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 non lo so nessuno vuole un Presidente che si agita come si sono mortali e sì, la vecchia è morta ma è quello che dovrebbe succedere se torneremo insieme e creare una migliore America se vede, no? la arma non aiutare qui sono le parole, non le mie grazie, Sam con due frasi l'ha risistemato incredibile siamo quasi arrivati, eh? veramente siamo quasi arrivati oh, è smolla morto? la cosa che non è mai vivere non è in questo mondo almeno la decommissionazione finalmente è arrivata non riesco a necrosis non riesco a necrosi il corpo non riesco a qui pensavo che potresti che si chiedi potresti provare a chi lo scoperto per vedere cosa succede non riesco a chiudere questo sarebbe direttamente di un'ordine exeggete e ci sono lezioni su questo tipo che ora che siamo una città non riesco a chiudere non riesco a chiudere ma non riesco a chiudere la alternativa è definita la presidenza non riesco a fare questo non 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 riesco a chiudere andrò incineratore non riesco a chiudere 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 l'OCA non riesco a chiudere dove stavi o come se ti trovare non riesco a chiudere Più di così sembra, non lo so, che vuoi. Grazie per tutto. Qua abbiamo come una fontana in questa scena, sempre. Vi contengo, Shantoro, ci contenga. Però è molto d'impatto. Che sto ragazzo? Eh sì. Ci sente basso questo, ne devo mettere uno con più volume, ne devo trovare. Sta a cannone, eh? Ci sente sempre basso. Non preoccuparti, non mi sembra più sbagliato con Enntaris questa volta. UCA ha il mio sacco, siamo la prima proprietà di vendita a compagnia per ottenere l'approccio. Sua sembra che stai riuscendo all'interno del mondo. Siamo tornati? Grazie. Grazie. Aspetta, c'è qualcosa che devo dire. E' la cosa che ti diciamo. Non mi sembrava, non mi sembrava. Non mi sembrava, non mi sembrava. Oh, veramente. I... I find and fix what's broken and reconnect. I'm fragile. But not that fragile. Wanna come work for me? Could use a man like you. The world's still broken. The same as before. What isn't? But we're still here. We're still chugging alone. Not everyone. Not me. Come on. You put America back together, didn't you? Doesn't mean there's a place for me. I've got no ties to anyone or anything. I might as well be dead. I felt like that when we first met in the cave. I still do. You don't act like you're the same person. You've learned how to touch. To feel. You've connected with people. With us. Everything I touch, I lose. Sam! That's my allergy. That's the fear. That's the fear. That's the fear. That's the fear. con Fragile ma per forza però c'è un motivo come di che la tua fatta vero ma la tua fatta vero ma mica mi ricordavo porco cazzo ma la tua fatta vero beh che non è lontano alla fine va imbiancata terribile le Fragile lei poraccia ci ha creduto sempre fino alla fine niente da fare beh ma lui già c'è il piano pronto no? effettamente non mi ricordavo che cambiasse corri su su che c'è cioè devo andare a dormire io poi c'ho ste belle idee sembra venuto qua la mattina poi dopo no? te lauro io ride 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 cioè dove vai a dormire? ma ora vado pure io finisco anzi grazie a te la pazienza adesso è stato qua fino a quest'ora per le risate che mi hai fatto fa dai ci risentiamo domani tranquilli io vado a finire però saluta Fraffio dove sta Fraffio? non l'ho visto non l'ho visto i messaggi se c'è sta non c'è 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 arriva arriva sono buona allora aspetto intanto devo finire se finisce sto qua ah Fraffio ah è Qua cosa sarebbe interessante capire? Il raid più notturno che la storia di questo canale ricordi? Fraffi, buonasera, buonasera a tutti i riders, parlo piano perché è molto tardi, però di solito non urlo. Che dici? Io sto finito a Stranding apposta, sono arrivato lunghissimo, perché sono arrivato alla fine. Pillule, buonasera, benvenuto nel canale, che spettacolo! Abbiamo quasi finito, abbiamo quasi finito, non potevo interrompere, come diceva albanese, non si interrompe l'emozione, quindi non potevo truccare il finale, capito? Io non ci vedo più, rega, scusate, Marukor at zero, grazie per il follow, weee, dopo un po' di SOSP, prima di finire, Sina, ma aiuti? Sto a scrivere della roba, è veramente allucinante. Lord, Fraffenhauer, grazie, sto bene, bene, l'ho finito, sto finito, sto portando il BB all'inceneritore, no? E' finito, l'ho finito, un po' sto fatto questo rotarda, perché a questo rotarda stavo sotto le pezze, capito? Di nuovo, grazie Marukor per il follow, sei il novantesimo follower, quindi mi hai fatto scattare il traguardo, ti ringrazio. Quindi, Fraffone, sto a Tito Rider, fa tutta la serata, sono partito dal punto in cui... me lo levò perché c'è sta questa, mi canta nelle ricchie, non riesco a parlare. Nel punto in cui tu arrivi sulla spiaggia dove c'è sta l'ultimo cosa da connettere, yeah, è un piacere, ok, pure per me. E da lì ho fatto tutto il finale, con tutti i filmati, la spiaggia, chi l'ha giocato il gioco lo sa, per me è un'esperienza sempre molto bella, questa è la mia terza run che finisco, l'ho impostata da un punto di vista esclusivamente narrativo, non ho fatto tutti i viaggi che faccio di solito, avanti e indietro, ma è durato comunque un bel po'. E stasera stiamo alla quarta ora del streaming, per me è un record assoluto, anche perché ci vorrà Cariola domani, però valeva la pena. Sì, se ne può andare a letto dopo tutti gli spari finali alle due. Grazie Silvia per tutto, grazie. Ci vediamo domani. No, tu, tu, io prima quando... Tanto l'ho visto prima, quando... La parte in cui Deadman... Guarda, ripensaci a me, per il gruppo in gola, quando... Sam abbraccia Deadman, ma quella scena mi fa squagliare proprio. Ogni volta, ogni volta che la vedo. Di poi piango per qualsiasi cosa, quindi. Pur se c'è un gatto vicino che sta a fare il bidet. Nonostante quello, mi viene da... A ripensarci, mi viene da... Ma poi c'è stato un altro pezzo pure... Mica male, eh. Musica da merda. Voi che stavate a giocare? Che stavate a giocare a Fraffi, dimmi un po'? Così alleggerimo un po'. Prima del gran finale. Figurate pillore, ma... Voi i DSO veni meritate così, snocciolati proprio. Abbiamo chiacchierato di JRPG. Ah, beh, bello. Io ancora non ne faccio mai uno, The Just Chatting, a casa. Dagli gatti l'ho fatti... Stavo già alla quarta puntata. È stata una chill night che è andata come andava. Scommetto che è andata benissimo, perché quando la gente è di qualità... Non si può fallire. Io sono buono, sono come il torrone. Morbido per chi ha i denti, duro per chi ce l'ha. Grazie per tutto. Questa è una scena pure molto bella. L'ultima maratona. Maledetta, ti odio. Una fondazione. Una pietra. Io ti giuro, lei ce l'ho qua. Qua ce l'ho. Proprio qua. A starpezza. Non lo sapessi, ma lo so. Scusate se parlo un po' più basso del solito, ma... Sono pure le due. Non mi vorrei far via forchettate. Dai vicini. ecco l'ho il secondo D Perché poi c'ho pure tre ore che stai qua, no? Ti aspetti sempre che arrivi e arrivi e lui ti sposta sempre più l'asticella verso... capito? Come la pentola alla fine dell'arcobaleno diventa sto pezzo. Questo non è quello che abbiamo accettato, tu hai detto che farei tutto nel tuo potere per salvare Bebe. Siamo, ma non possiamo rilasciare il suo figlio ancora, credo mi quando ti dico che è il mio migliore. C'è una moglie in una masca che non ha fatto nulla ma lieve a me. C'è una moglie per proteggere il nostro paese. Liesi sono una necessità infortuna. Il Presidente mi ha dato il migliore di accesso. Ho usato loro per manipolare il sistema di sicurezza. Abbiamo 5 minuti prima di risolvere, signor. 5 minuti per parlare. Ok. C'è già te sega veramente, te stanca tantissimo quando arrivi qua, capito? Poi non puoi interrompere, non conosco uno che ha interrotto in due parti di tutta questa sequenza dei filmati. Possibile, come fai? Sì. 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 Peccato che lui ha sfruttato solo per quelle scenette all di combattimento. Per me è un gran peccato. perché se è un grande personaggio ma poteva essere una roba stratospetica, no? ne metti Higgs che è una pupazza di Amelie e lui me lo lasci per quelle tre scenette lì è un peccato ma Ritus però c'è un progresso dai lui ce l'ha un progresso Ritus poi c'è tutta la l'altro in cui empatizzi col BB insomma lui ce l'ha un progresso dei rapporti con i personaggi ma c'è sto c'è sto c'è sto preso questo però diciamo che lui è proprio metà proprio l'occasione mancata se lui lo incontri fai quelle tre quattro cose ti fa credere che è un cattivo lo chiami grifford hunger peccato ma questa è una cosa magari è un capriccio mio personale l'autore c'ha sempre ragione io fra un po ma dormo sulla sedia divento come il professor Xavier domani mattina no vabbè è finito ma dai fraffi è finito no che macumpe si le mani non si vedono però ti assicuro che sto prendendo provvedimenti a quest'ultimo messaggio non so di chi sia però guarda visto come stai a dimostrare tutto st'amore ti è ma è anomalissima è anomalissima sorry No, non c'è solo il mio No, non c'è il mio Non c'è il mio tra l'altro parentesi ma smith mi che sarebbe i capelli più belli del gioco non come a concedere come sono fatti come sono realizzati saprò vendicarmi fraffi ti riempio delle banane la live guarda che siete maledetti no ma me la taglia pure sta scena non me lo ricordavo che non me la facesse sorbire tutta challenge accepted no ma io non sono un grande disturbatore e tete sub affitto hubibble tete sub appalto scusa sa che se scopere ciocci ho fatto solo attraverso le banane le banane in questo stato non ci sarà nulla da stoprire da perdere se ti fai la città non sa dove sei o come ti trovi Quando utilizzare l'incinurazione, dovrai riconnecciare con il network automaticamente. Potresti provare a prendere Lou da parte, solo per vedere cosa succede, ma questo sarebbe in diretta contravenzione di un ordine exeguitivo. No, Fraffi, grazie! Ma tu sei un pazzo, sei! Grazie! Ma che non si rammazzate! Grazie! Grazie mille! Non posso urlarti di più, però... ti ringrazio, ti faccio una cosa... stupida, ma... alla hobby ball! Grazie, di cuore! Sei un mito! Ah, meno male, ci hai ripensato! Provo a soffrire delle più belle icone del mondo, tra cui queste! Aspetta, se le ritrovo... c'è un rischio 70% di rischio, di scatastrafico, semplicemente, nel rincollo. se le due e un quarto sarei stata ancora qua, avrei riso di gusto! Esatto! Stonca! Perchè non c'è vai di là? Dovano andare qua? Oh, qua non mi ricordo mai che cazzo... mi ricordo, ma... non è proprio facilissimo da portare, sto BB! Eccolo qua! Ma è definito! Ma chi va short a voi? Dio! Vi ringraziamo BB! per le sue... modicon! FRAFFI Ma tu lo giocherai a Monster Hunter Rise? E se sì, dove? parlo piano, tipo ASMR, questo... abbiate pietà! Io che l'odio, l'SMR! l'SMR! Anche io, io ho giocato sul world! Però c'ho voglia, capito? Ho visto oggi da Amon, di Radio Action TV! Ho avuto una voglia di giocarlo, incredibile! Eh sì, perché... Non in casa, io vivo da solo, però sopra e sotto, ovviamente ci sono altre persone che abitano qua, quindi... non sto in una villa isolata che posso urla come mi pare... Al massimo, mi preoccupo solo se sta svegliando i gatti... Sì, non lo faccio! Non lo faccio! Lo faccio. Ma quelle di Ceniglia fanno ridere! Quelle di... quinoa! non è tanto bevia a voi! Questa me la ricordava bene, la scena! mi ha perso. che bevi, che bevi, che bevi! Oh, che bevi! che bevi! Oh, Sì, And hold your fire Thanks for trying, John Stop! Get aside, sir, or we'll be forced to open fire It's a dead end He's trapped Security will take you from here A chi lo dici? Senza sbriga, questo Supermente la sono arrivata la frutta io Ardorce sono arrivato, non la frutta Notte, Zinn, buonanotte Vigilanza, nè Non fanno solo per sentirci la voce Oltre che come omaggio Ho scatenato un mostro, bravi Madonna domani, questa è una storia di Instagram C'è un metro e mezzo di caratteri per scrivere tutta sta roba Io già non puo in cima ancora ma le devo non... devo esblocar i altri slot Già sbrugino I'm sorry I screwed it up I've ruined everything This world is off-limits, no one goes there When he's in there, sir, I saw him You stole the wall Now sex the other way Go! Yes, sir No, open it up here inside Move, dumbass Bibi 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 calcolini Non preoccuparti Non preoccuparti Che va bene Chiaceremo Che devo sempre conti E' bene Fra un po' Arrivamo al tramonto di domani sera è il bello che io me lo immagino con l'accento piomontese fraffi capito è quello che mi fa ridere sagamurai befanato non volevo dubbiare ma che maradona ragazzi è stata una maradona alluminante io non potrei solo andare fuori e non potrei lasciarmi non potrei lasciarmi non potrei lasciarmi non potrei lasciarmi non potrei fuori di me ora ho avuto ho avuto ho avuto l'accento 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 non potrei non potrei ma mi 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 Capitano, guarda a te. Non ho fatto il stesso errore. Sei tu stesso. Sei libero. Oh, mio Dio. Capitano. Preparo a te. 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 tu mi ha detto che il tuo nome era Sam Porter ma tu sei Sam Bridges mio son mio bridge per il futuro senza tu io ero solo come come un altro cliff dead end no way forward nothing but enough no belong that the world people like you were trying to build dividing people was the only thing I was ever good at yeah what are you Sam you bring people together you're on the average of the future no 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 si come on Sam stand up stand up dormi dormi maledetta ora ora è sempre oh god la BB too state a fare i collegamenti di quello che abbiamo visto ormai un'ora fa no maledetta maledetta di nuovo è un po' lungo ma un po' prolisso a volte ma quando arriva nei punti dove deve punge così ma vale la pena c'è niente da fare ci ho messo solo quattro ore e quaranta per i baci eh tramone tramone c'ha quelle due o tre cose che io non amo tanto però alla luce la maggioranza delle cose è strepitosa avercene roba così di più dico di quella che ci abbiamo già ecco qua se uno se lo fosse perso sulla spiaggia il dettaglio qua si vede benissimo ecco perché Sam ci aveva non era ovviamente un cesareo per ovvi motivi che trama ne ha che trama ne ha io vorrei andare a bed però a bed guarda se ti sbrighi per carità l'arte si subisce quindi si subisce pure la fatica di subirla domani l'ho rompiti ho deciso faccio sta impossibile aspettare non 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 ma Grazie a tutti. 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 Come on, come on, wake up. Come on, wake up. Come on, wake up. Wake up. Come on, come on, come on. Come on, come on. Come on, come on, come on.